Difficilmente poteva andare peggio di così. C'è una grafica abbastanza impressionante diffusa da un'associazione che si chiama Cochrane che ci fa proprio vedere come nei mesi il nuovo coronavirus abbia veramente scalato la classifica delle cause di morte più frequenti al mondo fino a superare per esempio tutti gli agenti infettivi. Vediamo per esempio all'inizio dell'anno, l'anno si era aperto in maniera diciamo tristemente normale con i grandi killer in azione. I virus che causano le epatiti per esempio causano ogni giorno mediamente circa 3.700 vittime. La tubercolosi ne fa 3.300, l'HIV, l'AIDS ne fa 2.700 e poi la malaria ne fa circa 1.700 e poi c'è le meningiti 800 e un po' di meno l'influenza. Tutti questi grandi assassini se vogliamo procedono linearmente, cioè ogni giorno aggiungono alla lista un numero di vittime pari a quelle che si erano aggiunte il giorno precedente. Il primo gennaio la tubercolosi aveva fatto 3.300 morti, il 2 gennaio ne ha fatti altri 3.300, quindi il Comte è arrivato a 6.600, il 3 gennaio è arrivato a 9.900 e così via. Questo succede appunto per tutte le altre malattie nel corso dei mesi, ma il 27 marzo vediamo arrivare in fondo alla lista il nuovo coronavirus. E siccome invece il nuovo coronavirus procede in modo esponenziale, quindi molto più veloce, un mese dopo, il 26 aprile, ha già superato come numero complessivo di vittime a quel punto dell'anno la malaria, ancora due mesi e supera l'HIV, ad agosto supera la tubercolosi e oggi purtroppo ha ormai abbondantemente superato le epatiti di origine virale. A oggi le epatiti di origine virale dal primo gennaio hanno ucciso oltre un milione e duecentomila persone, il nuovo coronavirus ha già fatto oltre un milione e mezzo di vittime. E questo purtroppo era prevedibile, diciamo l'unica cosa sorprendente è che ci sia ancora qualcuno che pensa che questo virus non sia pericoloso. Ma c'è un'altra cosa che ci mostrano questi dati. Le malattie infettive hanno sempre ucciso, solo che nella nostra parte del mondo abbiamo potuto permetterci il lusso un po' di dimenticarcele, perché eravamo protetti dai farmaci, dai vaccini, dal benessere. Ora, questo nuovo coronavirus ci ha bruscamente riportati alla realtà, perché come vediamo da quest'altra mappa, è ucciso in particolar modo nel nostro mondo, nei paesi più industrializzati, negli Stati Uniti, ma moltissimo in Europa e moltissimo in Italia. Ricordiamoci che in Italia la principale causa di morte restano le malattie cardiovascolari. Nel 2019 le malattie cardiovascolari hanno causato circa 240.000 morti, ma questo vuol dire circa 660 morti al giorno. 660 vittime al giorno non è un numero tanto diverso da quello che purtroppo stiamo leggendo ormai da troppi giorni in questo specie di picco di nuova ondata che non si abbassa mai abbastanza. Ed è quello che ci fa capire veramente quanto sia importante superare questa fase e riportare il numero di contagi a un livello molto più basso di quello dove ci troviamo oggi.